La mattina ha una bellissima sorpresa, siamo venuti a fare la spesa al solito posto, al baraccone e cosa abbiamo trovato? Abbiamo trovato una finza di sbirri che ci hanno impedito di comprare le solite mele, il solito miele, il formaggio e praticamente hanno mandato via gli agricoltori Ma questi vendono gli ortaggi, raccolgono la roba, cosa fanno? La buttano adesso? Ma voi siete fuori, venite anche qua a toglierci il lavoro Se togliete il lavoro, togliete la terra, togliete tutto, aprite lì, andiamo lei e facciamo questo mercato Ma infatti, ma poi un piazzolo è vuoto, ma cosa volete? Ma siete gli occupanti coloniali? Ma non possiamo neanche più lavorare qua? Ma in questa situazione, il covid e tutto, non fate lavorare la gente Cioè qua c'è una crisi economica in corso enorme, questi raccolgono la roba per venderla e voi gliela fate buttare Un territorio del comune adibito a mercato per i produttori è stato tolto, così Il guadagno di oggi è andato in fumo Grazie a tutti Grazie a tutti